Ciao a tutti, io sono Asia e io sono Giulia. Allora, vedete qui c'è questo foglio che ho scritto giveaway un mese su YouTube. Allora, è così ragazze, oggi è il 2 settembre e festeggiamo il nostro mesi anniversario del nostro canale su YouTube. E quindi abbiamo deciso di fare un piccolo giveaway, ok? Benissimo, iniziamo subito. Allora, la prima regola è essere iscritti al nostro canale. La seconda è mettere questo video tra i preferiti per appunto farlo girare un po' di più. Poi bisogna essere residenti in Italia per appunto problemi di spedizione, essere maggiorenni o avere il consenso dei genitori. Allora, puoi mettere mi piace nella pagina Facebook che si chiama Giulie & Asia. Handmade. Questa regola è soltanto per chi ha un profilo Facebook. Mi raccomando, se avete un profilo Facebook mettete mi piace perché noi controlleremo tutte le regole che siano state rispettate. Quindi mettete mi piace nella pagina Facebook. L'ultima è che i commenti sono infiniti, ma non potete superare più di 5 commenti di seguito. Infine la regola più importante è divertirsi. Allora, iniziamo con i premi. Tiriamo via questo foglio. Allora, partiamo con questa scatolina dove all'interno c'è un puzzle, vedete? La figura del puzzle è questo cagnolino. Sono 54 pezzi? Sì, lo metto lì. Poi abbiamo questo block notice con questo orsacchiotto, molto carino. E qui incluso ha una biro. E vabbè, il laccetto è attaccato alla biro e dietro ha questo tipo mega reghello, diciamo così. Poi abbiamo questa scatolina che è la stessa che abbiamo acquistato io e Giulia. Vedete? Per metterci dentro le interie varie. Con 6 scomparti piccolini. Poi abbiamo questo sacchettone di perle. Allora, abbiamo qui perle miste di vari tipi. Poi abbiamo un po' di queste perle qui, di questo lilla blu, un colore strano. Queste di questo verde molto acceso. E infine queste tutte colorate, più piccoline. Poi, come altri premi, abbiamo questi due tagliapasta con l'orsacchiotto e l'elefantino. Poi abbiamo questi 5 decotape, come quelli che ho acquistato io. Aspetta, vediamo se metti a poco. No, non c'era poco. Allora, qua ci sono tutte le decorazioni che ho fatto vedere nel video degli acquisti dei cinesi. Yoligiri! Quindi, se volete sapere che decorazioni ci sono, andate a vedere il video. Poi abbiamo questi adesivi giganti, con il tigrotto, la rapa, la coccinella, la scimmietta, il gattino, la coccinella, il pesciolino, un altro pesciolino. Il girasore con una farfallina, il leone, la balena, la pallina, il gatto con il topolino, la giraffa, l'uccellino e questo scogliato, lo credo. Sono in rilievo, vedete? E sono anche morbidosi. Questi sono adatti per... Sennò copriamo tutto. Sono adatti per la resina, oppure anche per chi non lavora la... La resina può attaccarli sul diario, su tutto quello che volete. Qui abbiamo questo pacco delle nostre creazioni, che ora vi mostro. Qua sono quattro creazioni... no, cinque creazioni. Allora, adesso ve ne mostro... Quattro in fimo e una con le pisla. Allora... Vai che ce la fai, Giulia. Sì, ce la posso fare, fantastico. Allora, abbiamo questo paio di orecchini, a fetta di torta, ripiena, con la decorazione dietro. Ecco qui. Sull'arancione e rosso. E li mettiamo qui. Poi abbiamo questo anello a pan di stelle. Molto carino, con l'anello che si può regolare. Molto carino anche questo. Poi abbiamo questo bracciale di perle. Vedete, abbiamo questo... Non può mettere a fuoco questo tipo di perle. Aspetta. E anche quelle più piccole, tendenti comunque al viola. Quelle più grandi sono fatte in fimo. Quelle più piccole invece sono dei mezzi cristalli e delle altre perline. Molto carine. Ah, e le perline di questo braccialetto sono anche nel... Nel sacchetto del... Nel sacchetto di perline. Poi abbiamo un'altra creazione in fimo. Questo... Sopportachiavi. Ha lecca lecca con la faccina kawaii. È troppo dolce, mi piace troppo. Rosso con lo stuzzicadente. Fantastica. E poi, come ultima creazione, abbiamo questo guffetto marrone. In pisla. Molto carino, così... Vi rimarrà anche un ricordo, tra parentesi, di... Delle pisla, ecco. Ah, e qui... Oddio, non lo trovo. Ah, qua. Non abbiamo voluto farci il forellino, perché se casomai volete usarlo come calamita o così... Insomma, ce lo fate... Oppure, se lo volete appendere, ce lo fate voi, il forellino. Niente. Questi sono i nostri premi. E... Nell'info box. E... Spero che i premi vi piacciono e vi possano essere utili. E... Allora... Prima che mi scordi, il giveaway scade il 13... Di settembre. L'estrazione ci sarà molto probabilmente domenica 16. O no? No. No, no, prima, scusate. Sì, giovedì 13 ci sarà... Giovedì 13 alla sera ci sarà l'estrazione e la vincitrice o il vincitore avrà tre giorni di tempo per contattarci e dirci il suo indirizzo. Dopo noi lunedì 17 gli manderemo il pacco e niente, sarà finito il giveaway e magari faremo altri giveaway dopo che... Di seguito per gli iscritti. Bene, allora vi salutiamo. Ciao! E ci vediamo all'estrazione o al prossimo video. Ciao!